La nostra forza parte da qui, l'unità dei popoli parte dalla cultura, dalla musica, l'arte, è molto importante vivere bene questi momenti, lasciarsi andare, riempirsi di pace, di energia positiva, ancora una volta fateci sentire un urlo al cielo! Yes, questa è la mamma Africa, combattendo ogni giorno per l'energia libera, combattendo ogni giorno per un mondo senza più confini, senza documenti, un mondo libero! Vorrei sentire un po' di energia positiva! Anche la gente che chiama il mixa, lei fa un urlo! Yes! Giramuno! No! 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 Sto di soggiorno ancora, non è possibile, basta Razzismo! La scuola, non è possibile, basta Razzismo! Voste a me, nel futuro, la scuola, giusto! Fatalismo, go, go! Voste, viste a me, nel futuro, la scuola, giusto! Fatalismo, go, go! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.